buongiorno buongiorno a tutti carissimi bentornati in questo nostro spazio oggi venerdì 11 febbraio 2022 questa è la rubrica dedicata alle notizie più interessanti più importanti più folli più stupide della settimana rubrica che ho chiamato una settimana di ordinaria follia già che veramente da due anni a questa parte abbiamo raggiunto l'apogeo del delirio allora fra un secondo faremo un po un giretto fra le appunto le notizie di questa settimana la repubblica così oggi scopre che siamo in mezzo prossimi ad una tempesta perfetta rincaro delle materie prime energia inflazione lo scopre oggi quando ci sono persone che ne parlano da non due anni ma ben più di due anni mi fa piacere è l'informazione che aiuta avvisa far ragionare far ragionare i cittadini e poi il fatto quotidiano di travaglio è incredibile scopre che il mondo sta togliendo delle restrizioni e riesce addirittura a dire che l'italia sta seguendo il mondo e sta togliendo le restrizioni quell'italia che ha appena messo le restrizioni più vili e più forti forse al mondo insieme forse a pochissimi altri stati quindi la verità sempre un giornale interessante a cui dare sempre un occhio bel pietro pubblica un cioè sapete quando il sole della cultura della coscienza è basso anche i giganti anche i nani sembrano dei giganti non sto dicendo del pietro che è un nano però voglio dirvi che oggi quando una persona fa il giornalista se semplicemente fa il suo lavoro quelle volte che lo fa sembra un gigante quando trovi una persona che fa riflessioni di carattere filosofico con onestà con un po di lucidità ti sembra un gigante ecco voglio dire secondo me sono persone che stanno facendo il loro lavoro tutto qua ringraziamo chi ha fatto sprofondare il livello di cultura e di consapevolezza di questo paese va bene ok quindi le persone mediamente capaci nei prossimi anni sembreranno dei giganti allora bel pietro ci dice aifa ammette sotto i 40 anni c'è un eccesso di rischio di miocarditi sotto i 40 anni figuratevi mentre laifa dice questo in tv abbiamo ancora pediatri virologi che vorrebbero vaccinare anche la tartaruga di casa bambini donne incinte perché protegge non lo so i dati recenti mostrano una certa contraddizione vabbè guarderemo un pochino queste cose poi vi leggerò un frammento di un articolo di una newsletter di andrea cecchi un esperto in economia e questioni finanziarie interessante vi leggo solo un pezzettino che sta in linea proprio con il problema della tempesta perfetta economica sigla e poi diamo un attimo un occhio queste notizie vai bene carissime allora la prima notizia di cui vi parlavo la repubblica l'inchiesta fanno l'inchiestona valentina conte luca in 33 giornalisti inchiestona caro energia che è una lettera d'amore cara energia la tempesta perfetta ferma le imprese allora vi leggo solo il sottotitolo perché ne abbiamo parlato tante volte della tempesta perfetta del problema dell'energia il rincaro dei materiali e l'abbiamo letto all'interno di un quadro concettuale che ci fa comprendere che non è un fenomeno naturale imprevedibile come la caduta di un meteorite ma è un qualcosa di ben ricercato da parte di alcuni grandi interessi da quelli che vengono definiti gli stakeholders da ditela in inglese così la gente capisce ancora meno i portatori di interessi perché vabbè dopo lo vedremo con la lettera la newsletter di andrea cecchi decreto bolletto uno sconto per famiglie imprese energivore cioè che se mancano energia caccia 5 7 miliardi ecco quando loro cacciano i miliardi toccatevi perché per difenderne due ne colpiscono 2000 è la cosa interessante ma nel frattempo loro si alzano gli stipendi anche questa notizia ho letto tentano almeno di alzarsi gli stipendi le imprese nella tempesta fino a quando resisteremo con questi aumenti e qua prendono la parola di chi si chiede sino a quando resisterà dovrebbero andare anche ad intervistare a chiedere cosa pensano coloro che hanno chiuso cioè che non ci sono già più e stiamo parlando di centinaia di migliaia di aziende di piccole e medie imprese di partite iva e ad esempio qui a fianco è curioso perché proprio ti dicono ti fanno questo articoletto a fianco la pandemia fa chiudere sempre la pandemia ragazzi qualunque cosa succeda sarà colpa dei novax e della pandemia o probabilmente del pangolino che sta organizzando degli attentati la pandemia fa chiudere uno dei pub più antichi del regno unito benissimo ma qui la catena alimentare il turismo eccetera stanno andando a zero quando li hai rasi al suolo ecco che gli stakeholders i portatori di interessi chiamiamoli così io direi gli avvoltoi anzi c'è una parte che fa l'avvoltoio arriva e mangia i cadaveri e però lavorano o sono addirittura proprio associati con i cacciatori cioè il cacciatore spara e uccide la preda uccide dei interi settori dell'economia dei paesi dell'italia in questo caso ma anche la Francia ha subito dei danni micidiali e poi arrivano gli avvoltoi che si mangiano i cadaveri va bene stakeholder stakeholder ok covid il fatto quotidiano travaglio del suo giornale è un travaglio ogni volta e una volta ve l'ho già detto lo stimavo veramente tanto quando faceva delle analisi piuttosto precise della figura berlusconi della politica di quei tempi della politica berlusconiana peccato che poi non lo so voleva saltare sul carro dei vincitori probabilmente si ha smesso o era già ideologizzato ma finché stai sei occupata ad attaccare qualcuno non si vede qual è la tua ideologia perché stai semplicemente demolendo l'altra e sapete come la penso io credo che ogni forma troppo focalizzata ideologica in realtà ad un certo punto diviene violenta e non percepisce più l'insieme comunque travaglio qui in un articolo del suo giornale ma in realtà è scritto da ignoto di fq il fatto quotidiano ma non trovo chi l'ha scritto ci frega poco se no sentite cosa arriva a dire alla fine dell'articolo l'ignoto il percorso a tappe allora prima un attimo vi leggo il titolo dell'articolo perché è fortissimo covid il mondo verso l'addio alle restrizioni la francia pronta a revocare il green pass e new york elimina le mascherine al chiuso probabilmente a new york sapete la gente ha un altro spessore genetico biologico perché qui al chiuso allora il mondo sta riaprendo dicono io veramente faccio gli scongiuri che almeno questa parte della tempesta perfetta stia andando effettivamente a scemare però a scemare pieno di scemi sentite il finale il percorso a tappe di revoca delle restrizioni in francia è partito nei giorni scorsi in linea con quanto stanno facendo tanti altri paesi dall'italia alla spagna dall'olanda al belgio l'italia l'italia è partito giorni fa il percorso di riapertura ecco continuano a giocare questa storia avete visto le mascherine adesso hanno detto dall'undici cioè da oggi le mascherine non sono più obbligatorie all'esterno quando salvo quando ci sono assembramenti ma prima la norma diceva che le mascherine all'esterno sono obbligatorie quando ci sono assembramenti e non obbligatorie quando non ci sono quindi cambia semplicemente la struttura della frase ma il concetto era lo stesso ci non hanno cambiato niente l'avevano già fatto in precedenza questo giochino semantico e poi che cosa hanno fatto hanno imposto l'obbligo alle persone che hanno più di 50 anni quindi o ti inoculi o non vai più a lavorare sugli autobus eccetera si sale con super mega ultra boom green pass e tutto il resto del mondo lo sta togliendo ma il fatto quotidiano arriva a dire che l'italia adeguatissima a tutti gli altri paesi sta riprendo tutto cioè ma questi che cacchio di disturbi hanno sono sociopatici è schizofrenia questa addirittura dissociazione doppia personalità come ci hanno insegnato in questi giorni altri dimostrato in maniera inconfutabile altri soggetti ad esempio un noto virologo televisivo è arrivato a dire adesso è un rivoluzionario alla ciega e vara è pronto a scendere in piazza con coloro che hanno subito restrizioni che stanno manifestando da due anni contro tutta una serie di contraddizioni di cose illogiche e disfunzionali dal punto di vista sanitario lui che ha sostenuto tutte queste cose illogiche adesso ha trovato una scusa per per mostrarsi tutto è una sorta di divinità panteista è il dio pan il dio del tutto peccato che appunto come il dio pan speriamo che faccia la stessa fine cioè gridi spaventandosi da solo in mezzo ai boschi e facendosela sotto e gli hanno chiesto ma vuole entrare in politica cosa ne pensa perché no perché no tutto è possibile a perché sino ad oggi non hai fatto politica hai fatto medicina e scienza se riguardate tutte le affermazioni che ci ha offerto questo soggetto insieme ad altri erano al 90 per cento politiche ma nel senso non della parola bella piena antica ma erano affermazioni di parte di interesse ecco un altro stakeholders o il rappresentante di di stakeholders e mi avevano insegnato quando ancora facevo ero responsabile degli obiettori di coscienza del veneto stiamo parlando di 25 27 anni fa mi avevano insegnato nella formazione che non bisogna mai dire i politici sono viziati eccetera ma il politicante perché la politica è un'arte eccelsa nobile chi la rovina è un politicante ecco questi quindi facevano azione politica no da politicanti al 90 per cento e vaneggiavano su aspetti scientifici al 10 per cento va bene mi collego a questo punto con l'articolo della verità che cosa ci dice haifa ammette sotto i 40 anni eccesso di rischi di miocardite vi invito a leggere questo articolo dovete ecco magari non abbonatevi date un occhio non c'è sempre compratelo ogni tanto ancora usare la carta a me non dispiace però se voleste abbonarvi forse giornale che più merita un abbonamento fra quelli più diffusi vi invito comunque colgo nuovamente l'occasione non perché ho interessi non lo conosco nemmeno matteo gracis però ho trovato veramente interessante l'indipendente il giornale da lui fondato lo trovate su telegram trovate anche il sito ecco guardiamo anche dei giornali che hanno un'altra visione esistono sono dobbiamo sostenerli con un piccolo nostro contributo perché vivono solo di donazioni eccetera per fortuna perché ogni volta che si introduce l'assistenza l'assistenzialismo dello stato sapete che fine fanno comunque ecco dato un occhio l'indipendente di matteo gracis o il sito visione tv di toscano dove troviamo delle informazioni che escono anche un po da un po tanto per fortuna per avere più visioni dalla solita monotona devastante litania dell'informazione unica la verità fa questo fra i giornali comunque diciamo più strutturati fa questo cioè fa giornalismo ogni tanto si azzarda qualcuno a fare ancora giornalismo ed ecco che le persone normali sembrano dei giganti AIFA ammette sotto i 40 anni eccesso di rischi cosa ci dice Franco no scusate l'articolo è di Belpietro le rivelazioni le rilevazioni si fermano a dicembre mancano i dati sui piccoli tra i 5 e i 12 anni perciò è necessario il rapporto mensile un italiano su 500 denuncia reazioni vi ricordo che siamo in vigilanza passiva e non attiva quindi pensate te pensate voi e ma il 40 per cento dei casi gravi non è esaminato segnalate 758 morti per 22 di queste morti è stabilita la correlazione col farmaco e anche sulla correlazione delle morti rispetto all'assunzione del farmaco ormai anche un cieco ha visto che laddove era funzionale segnalare che una persona fosse morta per covid e non con covid facevano qualsiasi cosa per farla risultare morta di covid è esattamente il contrario viene fatto quando qualcuno ha problemi gravi o peggio rispetto a questa terapia un piccolo passaggio delicato 5 12 anni mancano i dati 5 12 anni sì io vorrei sapere mancano i dati sugli effetti a breve immediato termine su le reazioni ma i dati a lungo termine non ci sono per nessuno allora robert malone questo scienziato di fama internazionale che appena iniziato a criticare l'utilizzo non ponderato non meditato di questa tecnologia è diventato un cialtrone che cosa ci ha detto più volte ne sto prendendo uno è tanto uno che è moderato una persona moderata non ho preso le parole di luke montagné che oltretutto oggi ieri è morto pare ma repubblica scrive ancora il mistero giallo sul virologo montagné un sito francese annuncia la sua morte ma non ci sono conferme non so perché oggi a me pare che la cosa sia stata confermata da parenti collaboratori e amici comunque non prendo luke montagné che sapete vecchio ricoglionito il nobel quando interessa a questi giornali viene dato dei geni quando il genio non dice più le cose che interessano al sistema al potere diventa un vecchio ricoglionito ecco io spenderei anche due parole per sottolineare il valore di questi ultimi anni il valore che ha dimostrato in questi ultimi due anni quest'uomo fregandosene altamente della della reputazione delle critiche un uomo luke montagné che ha detto quel che pensava con coraggio veramente utilizzando un pensiero critico e libero per il momento tutto ciò che ha detto si è rivelato vero vediamo speriamo che abbia anche sbagliato qualcosa perché ciò che ha ipotizzato nei prossimi anni è qualcosa di per nulla buono che mi auguro veramente che abbia sbagliato certe analisi comunque staremo a vedere allora robert malone che cosa ci ha detto rispetto a queste inoculazioni che ai 70 anni ai 80 anni ai tante patologie hai paura di questo virus il medico in scienza e con scienza ti consiglia l'inoculazione può avere un senso ma si è chiesto cosa state facendo con i giovani cosa state facendo con persone che non rischiano praticamente nulla dato che state inoculando dei farmaci che sono ignoti nell'effetto a lungo termine ora io non riesco a capire ma questo è veramente la notte della coscienza c'è proprio quando il sole è bassissimo anche c'è ma niente da fare questo è un ragionamento di minimo buonsenso e cosa scatenato solo critiche continuano a parlare di vaccinare anche i bambini anche le tartarughe dei bambini ai fetti delle donne incinte io non so rispetto a questa cosa non so che cosa dire si è scatenata la furia la follia la pazzia va bene allora vi vorrei leggere due paroline perché ciò che ci interesserà nei prossimi mesi e addirittura ahimè anni è la tempesta perfetta economica che è una tempesta che è stata organizzata considerando che il sistema economico ha raggiunto il suo apogeo al suo punto massimo e pertanto quando si arriva alla vetta si può solo scendere ecco i grandi portatori di interessi i grandi capitali come scendono da questa vetta beh ovviamente scendono facendo ruzzolare tutti e mentre la gran parte delle persone ruzzola verso valle spaccandosi ossa perdendo pezzi perdendo ricchezze loro cercano di stare dietro quieti e calmi raccogliendo tutto ciò che queste persone perdono questo è il senso a mio avviso del grande reset in corso allora vi leggo queste siamo ormai a 20 minuti ma ne vale la pena vi prego di seguirmi queste poche parole di andrea cecchi ho scelto la parte iniziale vi invito a cercare andrea cecchi se volete vi scrivete la newsletter e vi seguite un po le sue riflessioni dice prima dell'inizio di tutto questo macello prima dell'annuncio del grande reset di davos a gennaio 2020 già era nell'aria che qualcosa di malefico stesse per avvenire ecco io invito nuovamente proprio per un fatto di autoconservazione tutti coloro che sono stati devastati psicologicamente dalla propaganda televisiva massmediatica andate a leggervi il testo il grande reset di schwab guardate la prefazione del signorino elkan questo lavoro è in corso stanno lavorando i più grandi capitali i più grandi portatori di interessi del mondo se ne siete un po consapevoli che cosa facciamo cioè noi che facciamo i miracoli però magari certi investimenti per chi ha due soldi non è il mio caso ma per chi è veramente ha lavorato tutta la vita a 65 anni a due soldi certi investimenti non li fa perché ha capito che certe cose sono dannose se state cambiando casa valutate magari una certa zona un certo posto o magari avete una certa età valutate un trasferimento cioè se tu sai più o meno correttamente cosa sta accadendo fai scelte più consapevoli tutto qua non le volete fare volete continuare a dire che chi parla di certe cose è un povero malato di mente aiuto aiuto sono finiti 20 minuti è un povero malato di mente certo pazienza per voi c'è pazienza continuate a fare mutui prendete una macchina più grande fate un mutuo di un'altra casa e quando l'inflazione devasterà completamente il valore del denaro e tante imprese ancor più imprese collasseranno le banche saranno contenti cioè in questa metafora che ho fatto mentre noi ruzzoliamo e cadiamo a valle rompendoci ossa facendoci del male dietro ci sono questi soggettini che raccoglieranno le banche raccoglieranno le nostre case raccoglieranno i nostri risparmi va bene continuate a credere a tutto ciò che perché è funzionale ovviamente ad un sistema economico di potere centralizzato oligarchico tenere le persone addormentate dire che andrà tutto bene perché se le avvisi si preparano si premuniscono fanno azioni sensate e quindi dopo un bill gates non riesce più ad essere il proprietario il maggior proprietario di terra negli stati uniti se ci fosse un'equa redistribuzione lui avrebbe quel giusto e tante altre persone avrebbero un po della torta della fetta e questo era anche il senso delle meravigliose parole di gandhi che la terra è abbastanza ricca per sfamare le necessità di ciascuno di tutti ma non l'avidità di ogni singolo individuo e questi individui che ci parlano del cambiamento il grande reset in senso di trasformazione green ecologica eccetera guardate un po come vivono cioè dietro questa necessità oggettiva di cambiamento stanno cercando di guadagnare il più possibile e non è un aspetto corretto equo ieri leggevo l'articolo ecco un'altra cosa di questa settimana di pura e follia il gigantesco yacht di bezos ha imposto lo smantellamento cioè è stato smontato un ponte in olanda per far passare far accedere al mare il gigantesco yacht di bezos bezos è un altro che ci parla costantemente della rivoluzione digitale tecnologica del green e della necessità di cambiare il mondo gira con uno yacht che costringe a far smontare un ponte ecco io non posso nemmeno uscire con la mia macchina perché inquina il suo yacht probabilmente va a pedali allora cerchiamo di andare verso la fine però queste contraddizioni la maggior parte delle persone non le percepisce quindi le persone non si indignano non pensano in maniera diversa non creano una cultura diversa e quindi le puoi bollire veramente le fai bollite e vabbè però io parlo ai miei frati e alle mie sorelline e fra di noi cerchiamo di volerci bene di darci una mano a seguire la strada più equilibrata e più sensata e quindi un po alla volta infatti faremo altri video nella durante la rubrica filosofia per fabbri dove parleremo ancora 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 di cosa fare praticamente se abbiamo due soldi se stiamo cambiando casa se abbiamo dei bimbi eccetera torneremo ancora su questi temi allora vado po a chiudere dice già prima del grande re set era nell'aria che qualcosa di malefico stesse per avvenire si poteva percepire l'odore di un mondo mefitico in putrefazione mi ricordo che mentre ero in banca a dare consulenza ad una coppia di anziani risparmiatori questi parlando del più del meno mi dissero di non avere particolari esigenze perché già avevano tutto non avevano nessun desiderio di spendere i propri soldi perché non avevano niente di più da comprare avendo già tutto era il periodo in cui dilagavano le offerte i gadget e le campagne di raccolta e punti per incentivare le famiglie e i consumatori a consumare di più a comprare ad avere sempre più roba inutile ve lo ricordate entravi nei supermercati prendi cinque paghi uno compra ed erano tutte porcate oltretutto anche un mio collega mi faceva notare l'ultima offerta del supermercato eccetera un altro asciugacappelli compra asciugacappelli mi disse ne ho già tre e prendiamo anche il quarto e quinto che senso ha era proprio tutto senza senso ricordo anche la mia prima visita all'ikea ma avete visto le file all'ikea gente che passa mezza giornata in fila fuori all'ikea perché è una roba incredibile rimasi sconvolto nel vedere enormi montagne di bicchieri impilati fino al soffitto miriade di oggetti di ogni sorta proposti ad un pubblico di persone che può anche non averne veramente bisogno ma siccome costano poco li compro lo stesso perché è conveniente l'avete sentita dire ad alcuni questa frase e intanto compro guarda quanto poco costa guarda c'è un'offerta incredibile prendilo poi a casa ti riempi di menate e così anche per i divani abbiamo i divani super offerta solo per due giorni di una cosa incredibile e lentamente le persone cosa hanno fatto una bella parte di persone vado un po riassumendo c'è chi dice si sono indebitate comprano stupidaggine qua compra stupidaggine la guarda la macchina nuova bellissima la paghi in 500 anni leasing tra press dopo me la ridai quando vuoi e si sono indebitate i consumi sfrenati inarrestabili servono ad aumentare un modello economico basato sul debito in cui i soldi esistono soltanto dopo che una banca li ha creati indebitando qualcuno la banca crea il debito ma non l'interesse questa andrebbe veramente segnata bisognerebbe scriverla di fronte alle banche la banca crea il debito ma non l'interesse non so se siete stati in banca hai due risparmi li metti li e poi a fine anno dici ma perché l'interesse di zero anzi è scesa la cifra ho perso è scesa perché li abbiamo tenuti al sicuro allora se li tengo a casa in carta lo stato vuol far sparire la carta e l'inflazione se li tengo in banca l'inflazione più potente di qualunque tipo di interesse non c'è nemmeno la stabilità però se tu vuoi indebitarti quello col giusto debito quel giusto per massacrarti quello lo fanno il debito si può fare metti i soldi l'interesse non esiste la banca crea il debito ma non l'interesse bellissimo questo fa sì che i soldi debbano essere creati in modo perpetuo e non solo non si può mai neanche pensare di diminuire il debito figuriamoci pensare di poter smettere per anche un solo istante di crearne di nuovo il sistema finirebbe in un momento questa è la base di tutti i problemi l'unica vera ragione che ci ha portato al punto di non ritorno un modello dove il debito cresce in modo esponenziale alla necessità che tutto il resto possa essere in grado di andargli dietro seguendo la stessa curva la stessa velocità dinamica ma ciò è impossibile perché la crescita del modello economico basato sul debito segue la curva esponenziale e può continuare a perpetuarsi solo finché si trovano sempre nuovi soggetti da indebitare quindi è fondamentale trovare nuovi ecco ecco il perché di tutta questa spinta sui consumi continuare senza sosta produrre caterve di roba di qualità infime per poi distruggerla e sostituirla comprandone di nuovo con un nuovo debito finché non rimaniamo tutti sotto le macerie di un sistema che non può durare per sempre per ragioni naturali cioè i limiti naturali dello sviluppo tu continui a prendere 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 aumenta la popolazione usi questo sistema di capitalismo selvaggio spietato di neoliberismo a un certo punto arriva la tempesta perfetta la bomba perfetta loro lo sanno anzi l'hanno portato volontariamente sino a questo punto più tempo passa maggiore sarà la magnitudo dello scoppio della madre di tutte le bolle la bolla del debito globale mi fermo qui poi l'articolo continua va avanti ma il punto qual è il punto è che questi giornali adesso iniziano a scrivere c'è la tempesta perfetta che sembra venuta dal covid dal blocco dei passaggi delle materie ma quale del covid quando renzi parlava dello sviluppo adesso torneremo a crescere a crescere a crescere vi ricordate che facevamo riflessioni al tempo dicendo ma cresci dove sei come un obeso che a un certo punto muore ed esplode e questo sistema di debito consumo debito consumo debito consumo già con i mutui soprano 2008 aveva visto la sua prima cannonata la sua prima deflagrazione ma mica abbiamo smesso ed ecco che ad un certo punto tu inizi a vedere una narrazione che chiede alle persone di buttare sempre più cose dalla loro nave rifaccio l'esempio di prima e ho chiuso veramente mentre noi stiamo ruzzolando senza capire niente perché il covid odiatevi no vax si vax ammazzatevi eccetera noi ruzzoliamo dietro di noi c'è chi ha creato la spinta per farci rotolare perché eravamo giunti al massimo dell'espansione di questo sistema questo sistema devastante che veramente si sta si stava e si sta ancora mangiando il mondo giunti al limite hanno guadagnato il massimo del localizzato portato le persone a lavorare nei posti dove c'era tutela sempre meno tutelate sempre hanno speculato al massimo dietro ci siamo andati tutti eh cioè dopo c'è chi crea la condizione chi spinge e poi i polli che vanno hanno creato il punto massimo l'apogeo bisognava scendere adesso ci lanciano e mentre noi ruzzoliamo ci spacchiamo la testa perdiamo cose arraffano tutto poi magari ricominceranno allora il punto è che più comprendiamo dove stiamo cadendo come stiamo cadendo più possiamo fare scelte intelligenti rispetto alla casa l'energia a un po di investimenti se uno ha messo via due soldi per tutta la vita e anche scelte etiche davvero etiche e esistenziali ecco perché questi giornali sono malefici sono tossici perché ti addormentano non ti fanno vedere l'insieme e alla fine fai scelte sbagliate che il sistema vuole gli stakeholders desiderano più persone fanno scelte sbagliate e più puoi arraffare per oggi abbiamo finito carissimi ci vediamo domenica sera con la notte dei frati dove leggo alcune vostre domande condivisioni e riflettiamo assieme un carissimo abbraccio e buon fine settimana a tutti ciao